Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tradire il fare. Ospite di questo venerdì il coordinatore cittadino e vicepresidente provinciale di Confcommercio Giulio Di Angelis che innanzitutto ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Di qui a poco parleremo della nascente consulta comunale per il commercio, iniziativa promossa proprio dal vicepresidente dell'incontro, almeno per quello che ci potrà dire che De Angelis ha avuto questa mattina con l'assessore comunale Giannaccone e le iniziative che saranno messe in campo con l'avvicinarsi delle festività natalizie. Anche oggi per chi lo vorrà la possibilità di intervenire da casa chiamandoci allo 08 25 31 399. Ma vediamo subito la scheda di presentazione di questa puntata. Passata l'ennesima crisi in comune formata alla sesta giunta targata a foto e si spera sia giunto il momento di dare risposta ai cittadini che sono in attesa da tempo e in prima fila ci sono schierati i commercianti nei confronti dei quali il comune ha preso più di un impegno. Tante le questioni intavolate negli ultimi anni ma che proprio il valzer di assessori che si sono susseguiti non sono state portate a termine ed ora si spera che la conferma di Giannaccone possa servire a raggiungere la meta. Il primo risultato che si può portare a casa è la consulta comunale per il commercio promossa da Confcommercio e che ha già ricevuto in giunta l'ok per portare l'argomento in aula consigliare. L'iniziativa è stata promossa dal vicepresidente di Confcommercio Giulio Di Angelis la cui idea è quella di formare un' assemblea con le associazioni e le confederazioni più rappresentative sul territorio che abbiano anche rilevanza nazionale. Di Angelis in queste ore ha avuto un confronto con l'assessore comunale Arturo Giannaccone per discutere di tematiche attuali ma anche di vicende rimaste in sospeso negli anni. Per il commercio cittadino sono stati già previsti dei fondi in bilancio per le attività negli aree dei cantieri. Ma le richieste non finiscono qui. Con l'approssimarsi del Natale si aspetta di conoscere le iniziative da mettere in campo e questo è un argomento che sta cuore anche ai cittadini ai quali chiediamo di intervenire in diretta chiamando allo 0825 31 399 per dirci come vorrebbero il Natale Avellinese. Senza fare per forza paragoni con altri capoluoghi campani a cominciare da Salerno come vorrebbero vedere i cittadini e i giovani in particolare la propria città in occasione delle festività natalizie. Alle vostre richieste o proposte faremo rispondere al vicepresidente di confcommercio Giulio De Angelis, ospite di tradire il fare a partire dalle 14 e 40. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0825 31399 su Prima TV. Dunque allora il tempo delle domande è finito, il tempo delle risposte. Possiamo dire che lei per portare a termine questa sua vera e propria missione potremmo dire che ha coniato questa sorta di motto De Angelis. Allora la prima cosa che le chiedo è la consulta comunale dei commercianti. Perché quest'idea? Questa non è un'idea mia. Tutto esiste, quasi tutta Italia nei capologhi di provincia più importanti d'Italia ed è figlia anche di una legge regionale del 2014. Poi è emanata, modificata, è una legge regionale che poi diciamo è la legge sul commercio che è stata poi promulgata nel gennaio 2015. La consulta è il tavolo delle proposte dove le associazioni di categoria, quindi i commercianti, gli artigiani, anche gli stessi consumatori, si incontrano con le istituzioni per valutare insieme le cose da fare, parlare di proposte per gestire al meglio i fatti contingenti di una comunità economica e parlare di sviluppo, quindi condividere delle scelte anche strategiche non solo a breve ma anche a medio e lungo a tempo. Quindi la consulta è una cosa seria che noi abbiamo promosso, abbiamo trovato anche nell'assessore di Annacone, direi anche nell'amministrazione comunale intera la disponibilità. Abbiamo chiesto un paio di piccole modifiche che riguardano appunto l'inserimento nella bozza che abbiamo discusso già due mesi fa in Comune, l'inserimento appunto della peculiarità che le associazioni devono avere che deve essere di caratura nazionale, perché noi guardiamo a un concetto anche di integrazione, di rete, quindi della città che va messa in un sistema più ampio e chiaramente diventa anche più semplice per le organizzazioni di caratura nazionale poter collocare a livello interprovinciale. Un obiettivo che possiamo ritenere centrato al 50%? Io direi che siamo già un poco più avanti del 50% perché appunto stamattina con questo incontro informale che c'è stato con l'assessore di Annacone mi è stato riferito che la consulta ha superato già la fase dell'aggiunta, adesso sta in commissione e poi andrà in consiglio comunale. Io credo di essere chiesto, che sarò chiamato come relatore in commissione per spiegare anche di questa richiesta nostra, di queste nostre modifiche insomma, perché le riteniamo importanti perché non c'è solo quella della caratura nazionale ma c'è anche di una necessità di una rappresentanza adeguata al numero degli iscritti perché Confu Commercio è di fatto il riferimento più importante anche in termini numerici nel campo del commercio e del terziario in città e non solo anche in provincia. Riteniamo che ci debba essere anche una proporzione in base anche al numero di iscritti, anche per il fatto di rappresentare i virali, anche diciamo di capacità di proposta, ecco, di interessi da condividere, di soluzioni da trovare. A questo proposito cosa chiedono ai commercianti nei confronti dei quali soprattutto negli anni passati l'amministrazione non è stata avara di promesse che però al momento, fino a questo momento, sono rimaste tali appunto. L'impegno c'è stato, questo lo possiamo dire perché, come dire, fare attività associativa è per certi aspetti anche una missione, quindi sono già tre anni che noi con l'amministrazione comunale di Avellino abbiamo un rapporto cordiale, direi anche molto intenso attraverso appunto questi incontri, questi tavoli tecnici. Come dicevo prima, lei lo accennava in una precedente intervista, io ho detto chiaro e tondo che il periodo delle domande è finito, aspettiamo delle risposte. Delle risposte che oggettivamente riguardano anche i fatti contingenti, reali, lei parlava dei fondi per i commercianti che hanno subito, diciamo, la chiusura delle strade dovute ai cantieri, quindi lì c'è questa nostra proposta per le strade, diciamo, che hanno subito appunto questi danni, Vallo di Corserova, di Pietro Ringivati, Piazza Libertà e Piazza Castello. E lì sembra che il bando sia quasi pronto, il comune, l'amministrazione comunale del bilancio preventivo che aveva già inserito circa 10.000 euro, stamattina Giannacone non mi ha confermato, ma io gli ho riproposto, gli ho ricordato che anche i suoi colleghi consiglieri e assessori mi avevano dato buone speranze perché questo budget venisse quando meno raddoppiato. È una speranza che abbiamo, vedremo poi, in base anche alla criticità del bando, cioè per vedere poi in effetti chi ne potrà beneficiare, quanti soldi venderanno questi commercianti che comunque hanno subito grossi danni, c'è gente che addirittura ha chiuso i negozi. Abbiamo desertificato zone intere come Piazza Castello. Un'associazione di imprenditori può avere un ruolo di proposta, anche di lotta per certi aspetti, ma deve essere comunque pronta costantemente un'interlocuzione con le istituzioni. Quindi al di là della forma, la sostanza deve essere comunque tesa a portare a casa dei risultati, i più compatibili possibili e i più ragionevoli possibili. Possiamo in un certo senso anche dare qualche rassicurazione per i commercianti di via Moccia, zona della quale ci siamo occupati anche abbondantemente noi durante i nostri Tg, dando appunto voce ai commercianti di quella zona che da mesi stanno soffrendo e purtroppo non poco. Incomiabile il vostro impegno su Contrata Baccanica e via Moccia. Io onestamente stamattina non ho avuto ancora risposte. Qualcosa di informale mi era stato detto qualche giorno fa di un'apertura prima vedonale e poi diciamo anche per quanto riguarda le vetture, ma ciò non è avvenuto. Chiedo pubblicamente all'assessore Preziosi di delucidarci in materia perché effettivamente c'è una penalizzazione forte da parte di Contrata Baccanica che prima ha subito dei lavori di riqualificazione e poi con questa ulteriore chiusura di questo tratto di strada che collega al centro città sta diventando difficile per i commercianti. Non vorrei che si riaprisse una seconda via 2 Principati, una seconda piazza Castello. E su quello noi non faremo sconti perché questo addazzo dei cantieri che si sa quando partono, non sa quando deve finire. Se si vuole rispettare degli imprenditori che rischiano improprio, che ci mettono la faccia e che tutte le mattine in una città che sta perdendo giorno per giorno pezzi perché noi abbiamo una riduzione dei flussi in città costante, perché la città non è più attrattiva per molti aspetti, abbiamo un calo addirittura della popolazione perché non essendoci lavoro la gente migra. Un po' di rispetto in più per i commercianti che comunque nonostante tutto aprono le salate cinesche e rendono vivi dei quartieri. Perché se dovessero aiutare i commercianti poi le aree abitative verrebbero fortemente penalizzate. A proposito di questo ricordiamo anche la situazione che vive da tempo, chiedo scusa, Viale Platani, una delle zone più belle della nostra città che rischia praticamente di trasformarsi in un dormitorio. Io ho molta fiducia nell'esperienza di Arturia Nacone come assessore regionale perché lui ha una visione che io condivido di portare a Viale Platani nell'ex ospedale per intenderci qualcosa che abbia a che fare con la ricerca, insomma un polo importante. Anche stamattina si è parlato, ma insomma neanche in modo ufficiale di questa situazione, lui è convinto di poter mettere diciamo in rete un progetto per il rilancio di quella zona attraverso appunto l'utilizzo del vecchio Moscati. Ma io mi domando anche l'autostazione a che punto sta perché per noi era quello l'aspetto propulsivo. La città soffre di anemia sotto il profilo dei flussi, lo dicevo anche prima, se noi spostiamo l'ospedale e il mercato fuori dal centro città e di fatto non abbiamo più flussi attrattivi in centro, è chiaro che il commercio viene penalizzato, se non c'è gente che viene, basta dare il martedì e il sabato sul campo sportivo vi rendete conto di quanta gente va al mercato. Non lo so, ma se immaginassimo un mercato in centro, probabilmente quella gente verrebbe in città, perché lì come sta, secondo me serve a poco, nel senso che tutela fino a un certo punto anche forme di viabilità, però non lascia soldi in città, cioè è legato all'acquisto sulle bancarelle, sugli esercenti ambulanti che operano nel mercato. Se il mercato fosse ricollocato in città, probabilmente darebbe vita ad altre attività commerciali, ci sarebbe un rilancio di quelle esistenti. Non a caso Trivalda, che è un paese commercialmente molto civile, sta pensando di riportare il mercato in centro, quindi una logica c'è in questo, perché sono proprio i commercianti che chiedono questo ritorno alla condivisione tra commercianti ambulanti e commercianti a posto fisso, perché è una ricchezza per tutti. 0825 31 399 è il nostro numero per intervenire in diretta, ora Vicepresidente, i commercianti sperano nel Natale. I cittadini tengono anche in maniera particolare a questa festa, sperano di vedere la nostra città in maniera diversa, da come è ridotta soprattutto negli ultimi tempi, allora le chiedo, cosa si sta pensando di fare per il Natale ad Avellino? Allora, partiamo da quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso l'amministrazione comunale ha avuto, nella società, la SIDICAS, credo, lo sponsor per illuminare Corso Vittorio Emanuele. Tutto quello che i cittadini hanno visto al di fuori di Corso Vittorio Emanuele, tutte le strade che dove sono state illuminate, sono state finanziate con i soldi dei commercianti, il Comune ha messo gratis la TOSAP, quindi la tassa di solito di occupazione solo pubblica e l'energia elettrica. Ma le luminari, proprio il costo del fitto delle luci, è stato pagato dai commercianti. Quest'anno, proprio perché è successo, chiamiamola paralisi, riflessione amministrativa, perché poi di questo si tratta, è un problema solo di tipo politico, però che comunque ha bloccato negli ultimi quattro mesi l'attività dell'amministrazione comunale. Io so che anche stamattina Gianna Cone mi diceva che si stanno muovendo, e potrebbero esserci notizie interessanti, però io onestamente non me la sento di dirvi quello che si potrà fare, quello che si farà. Io sono ottimista, per lo meno, perché insomma ho sentito Arturo e Gianna Cone convinto che certe cose si possono fare, però non so quali, poi dovete chiedere a lui, loro c'erano dei passaggi interni loro, perché noi entreremo in una fase successiva, quando loro avranno abbozzato un'idea di Natale. Poi se dobbiamo fare delle attività negativi... Ci può almeno dire, Vice Presidente, se almeno quest'anno ci risparmieremo le solite polemiche, cioè non sentiremo dire che anche in questa occasione l'amministrazione comunale ha pensato solo al cosiddetto salotto buono della città, ma che si guarderà anche alle strade parallele, poi passare per via tagliamento, via circolazione, cioè ci sarà un occhio di riguardo un po' per tutta la città, per quello che si può, perché poi sappiamo anche le condizioni economiche, e la crisi e tutto il resto. Quello che è stato garantito da Arturo Iannacone stamattì, in modo informale, chiediamoci, perché Arturo non è il padrone del comune, però io lo dico con molta semplicità. Abbiamo richiesto, e ci è stato garantito, che non verrà privilegiato solo, come lei chiama, il salotto buono della città. Oggettivamente, però, c'è da dire un'altra cosa, che il salotto della città ha una peculiarità che è la chiusura al traffico, ha un'isola pedonale importante, che va rivalutata attraverso un progetto che lei sa, a quale mi è molto interessato l'assessore Tommasoli, che si parla di riqualificazione di corso vettorale. Poi ne parleremo dopo. Certo. E comunque, io credo che lì le che verranno messe queste benedette casette che si mettono tutti gli anni, ma che poi ci siano degli eventi organizzati in altri quartieri, ci sia l'illuminazione, che questo è un altro discorso, ci è stato garantito una visibilità del centro di Avellino, che non significa solo questo corso di Vittorio Iannacone, ma significa anche le strade che Romare faceva riferimento a lei, da via Piave, via Tagliamento, passando per piazzare al centro. Senza dimenticare quelle che sono ovviamente un po' le zone più periferiche. La cultura nostra non è quella della divisione. Io purtroppo lo devo denunciare questo, perché per anni anche l'amministrazione comunale, non volendo, ha certificato, anche in prese di posizioni, diciamo, piuttosto radicali, che ci fosse avere una necessità di priorizzare dei quartieri. La città è una città di 50.000 abitanti, non è neanche un quartiere di Napoli. Se noi cominciamo a creare la contraposizione del centro storico, con il corso Vittorio Iannacone, o ai Platini o San Dommaso, non andiamo da nessuna parte. Vicepresidente, io so che lei, proprio ieri, se non sbaglio, ha scritto una lettera per chiedere un incontro a Giovanni Marone, che è presidente della ConfCommercio di Salerno. Quali sono le sue intenzioni? Le mie intenzioni sono quelle che sapete. Io ho detto prima, la città va messa in rite, Salerno non è Kabul, è una città che si propone molto bene durante tutto l'anno. È una città vicina a noi, ha un collegamento molto interessante. Io credo che le ConfCommercio, le associazioni, quando parlavo di associazioni di caratura nazionale, penso anche alla ConfArtigianato, CNA, alle associazioni dei consumatori, alla stessa... Cioè, tutte le associazioni... Perché io parlo di collegamento? Perché è molto più facile tra due ConfCommercio di due province diverse dialogare e creare delle intese. Certo, Salerno ha le luci di artista adesso, ha delle altre cose durante l'anno. Creare delle sinergie con la ConfCommercio di Salerno significa creare, come dire, stimolare i commercianti della nostra città a immaginare insieme all'amministrazione comunale delle attività che possono integrarsi con quelle che vengono fatti a Salerno. E secondo me, visto che siamo... Mi fa un esempio. No, non glielo faccio l'esempio perché i commercianti in questo momento sono talmente giù che devono ritrovare anche un po' lo stimolo a riflettere, a pensare e a proporre. Tanto è vero che io sto rilanciandolo proprio perché abbiamo subito, questo lo posso dire senza pensi termini, anche queste difficoltà dell'amministrazione comunale perché poi le associazioni si esprimono quando hanno delle... esprimono proposte quando hanno delle interlocuzioni affidabili. Sicuramente. E noi siamo andati in stand-by come ci è andato il Comune. Abbiamo seguito purtroppo anche per un fatto automatico quelle che erano le vicende e la tempistica del Comune di Avellino. Abbiamo fatto già una riunione in un discorso, un'altra la faremo a giorni. anche qui ci stiamo esponendo come alzorio, ci mettiamo la faccia perché noi dai imprenditori ce la mettiamo sempre la faccia per dire ai commercianti partecipate all'associazione mettiamoci danno al tavolo e elaboriamo delle proposte perché stiamo trovando i canali perché queste proposte possono portare dei risultati indipendentemente dall'istituzione perché poi non è che c'è sempre qualcuno che deve darci qualcosa. Dobbiamo essere anche noi capaci di fare delle proposte e questo lo possiamo solo fare al nostro interno avere la capacità di analizzare i nostri problemi immaginare delle soluzioni che siano condivise e realizzabili. Infatti vorrei sapere quali sono di contro se così possiamo dire le richieste che fa Confu Commercio ai commercianti anche per le imminenti feste? Noi in questo momento siamo in una fase ripeto di valutazione aspettiamo a giorni che il Comune di Avellino ci dica per Natale cosa vuol fare. Su quello poi discuteremo tra di noi abbiamo diciamo un ritorno anche di alcuni commercianti storici della città che stanno partecipando in associazione al coordinamento cittadino della Confu Commercio e insieme ai nostri colleghi discuteremo faremo delle proposte noi siamo qua per questo dipendentemente dai servizi che offre diciamo all'imprenditore come sindacato la nostra associazione è fatta dai imprenditori la nostra associazione è come dire è il luogo di elaborazione di valutazione di analisi dei problemi del settore è da noi che deve venire la proposta io lo dicevo pure stamattina con l'assessore benissimo quello che possiamo fare insieme ma dobbiamo essere anche noi capaci di parte delle proposte di parte delle linee anche perché la politica è molto distratta anche da altre situazioni non ultimo e io lo dico da presidente da esponente nazionale della Federcomer della Federazione dei Commercianti siamo fortemente interessati anche alla messa in sicurezza diciamo del patrimonio pubblico e privato patrimonio immobiliare della città quindi anche su questo intendiamo dire la nostra partecipiamo a un tavolo un osservatorio dell'edilizia insieme agli ordini professionali l'assessore dei costruttori degli artigiani quindi riteniamo che il settore dell'edilizia possa essere anche strategico non solo per essere un propulsore economico per la città e per la provincia ma quando si parla poi di rigenerazione di riqualificazione urbana si parla di miglioramento della qualità della vita di ridisegnare i flussi commerciali è un argomento molto serio che riguarda a 360 quadri riguarda tutti quanti noi quindi diciamo noi abbiamo il dovere di guardare le cose per quello che sono noi abbiamo una città che in questo momento è ferma allora ci sono dei progetti che stanno andando avanti bisogna chiudere i lavori in coro che ci sono in piedi e bisogna chiuderli io non so i tempi che sono legati a questi fondi mi viene detto che c'è un'accelerazione per questo quindi l'apertura del benedetto tunnel piazza libertà insomma tutto quello che è in cantiere dopodiché bisogna decidere cosa si vuole fare nella città io penso che la consulta si troverà in questa fase pronta quando si deciderà un progetto di sviluppo per la Piazza Vellina e io in questo mi scusi se non però risposto nella risposta immagino anche che a Davino bisogna cominciare a discutere non solo di fare un accordo con Salerno per sfruttare anche i loro flussi turistici legati anche al turismo proceristico o agli eventi che organizzano ma noi dobbiamo cominciare a immaginare anche di portare a Davino una residenzialità universitaria noi abbiamo un mare di case vuote nessuno però mi riesce a dare e lo chiedo da due anni una mappatura degli appartamenti sfitti in città perché noi potremmo essere facendo un accordo con l'AIR potremmo quindi per abbattere i costi di trasferimento dall'università di Salerno e Avellino potremmo proporci come referente riferimento residenziale per i giovani che vanno all'università Fisciano e magari intendono vivere in una comunità un po' più grande dei paesi tipo Mercato del Zaverino Fisciano dove vivono attualmente questo porterebbe un'economia alla città risveglierebbe anche lo stimolo a fare impresa e poi qua ci rilassiamo al famoso RFU di cui si parlava prima lei ha appena fatto accenno o meglio abbiamo appena parlato della questione sicurezza in città nei giorni scorsi come tutti sappiamo è stata chiusa la scuola media Enrico Cucchia questa la chiusura della scuola inevitabilmente sta portando già in questi giorni delle ricadute negative sulle attività commerciali vicine all'istituto in attesa che venga risolta questa questione che sicuramente andrà molto per le lunghe avete già pensato come tutelare i commercianti di quella zona abbiamo saputo solo ieri che è stata trovata una soluzione tra virgolette tampone con le 16 aule ma non è manco detto che sia quella si aspetta ancora una risposta dalla presta ma andiamo a discutere di altre cose il problema è questo capire prima che cosa c'è che tempi ci sono ripeto io sulla tempistica dei lavori che fa il comune io non voglio criticare cose di preziosi tra le altre cose è una persona che insieme a me ha vissuto il dramma di Corsa Europa io l'ho trovato un'assessore diciamo molto operativo molto disponibile questo glielo riconosco perché è stato anche molto collaborativo però purtroppo la situazione della comunità è una fase di stand by che è legata a questi finanziamenti che devono arrivare quando ci sarà la certezza delle situazioni quando sapremo che la ricocchia viene usata per X tempo che sarà battuta ricostruita non so verrà riqualificata sismicamente è chiaro che tenderemo di fare come dire d'accordo con i commercianti della zona di fare un tavolo col comune di Avellino perché potrebbe esserci una soluzione simile a quella della zona dei commercianti che hanno vissuto il dramma dei cantini di cui parlavamo prima quindi un beneficio economico vediamo ci dobbiamo avviare velocemente alla conclusione la nostra mezz'ora oggi davvero è volata allora un'ultima domanda sull'area vasta questo cosa potrà significare per il futuro del commercio l'area vasta è una realtà Avellino con gli autoconsumi con 50 mila abitanti che ha che poi sono fluttuanti non è una città che è autonoma finanziariamente perché non ha i flussi commerciali per potersi garantire una sua autonomia economica in tutti i sensi i commercianti non ce la fanno con gli abitanti che ci sono con i consumi che fanno quindi immaginare ripeto di portare gente da fuori con quel discorso che facevo prima immaginare diciamo di aprire la città a un sistema integrato con altri comuni quindi l'area vasta di cui parlava lei dei famosi 150 mila abitanti e 34 comuni che si va a ricollocare in un sistema Irpinia quindi Irpinia città del commercio chiamiamola così quindi un'area commerciale da 400 mila abitanti che si va a integrare come sistema e come rete all'interno della regione Campania voglio aggiungere una cosa noi abbiamo verso delle occasioni perché questo va detto qua nessuno da colpi all'amministrazione per l'amor di Dio siamo qua tutti quanti e possiamo sbagliare ma non aver sfruttato l'idea dei centri commerciali naturali e delle ZFU zone franco-urbane che avrebbero potuto in questi fondi europei rilanciare il commercio nelle zone periferiche attraverso i giovani attraverso i giovani perché lì in base di start-up lo Stato la Comunità Europea finanzia i primi dieci anni di esenzione delle tasse comunali e nazionali queste cose non sono state fatte quando si potevano fare io chiedo lo dico pubblicamente nonostante poi ne abbia già parlato chiaramente con le istituzioni con la stessoria di riprendere in mano sia il discorso del centro commerciale naturale ma soprattutto della ZFU perché a Benevento so che questa cosa che è stata sfruttata perché sono fondi europei ha dato dei risultati noi dobbiamo immaginare che Avellino sia il centro geografico della Campania dobbiamo metterla in rite immaginare in modo serio questi benefici che potrebbe portare il collegamento ferroviario ma ottimizzare magari quello su ruota che ci sta già e aprirci noi non dobbiamo chiudere la città assolutamente dobbiamo collaborare dobbiamo pensare che la città è di tutti quanti noi questa cultura della critica a prescindere non va bene io piangermi addosso da imprenditore è un lusso che non mi posso consentire devo essere ottimista pregherei e lo dico pubblicamente i commercianti che vogliono vogliono dedicarsi alla nostra città in modo costruttivo non solo verbale a partecipare alla vita dell'associazione della nostra quando di altre associazioni di riferimento nessuno li obbliga a venire da noi però noi non usciamo dalla situazione se non ci mettiamo qualcosa tutti quanti noi che partecipiamo alla vita di Convo Commercio dedichiamo molto tempo all'associazione e poco alle nostre aziende non è un gran bene però lo facciamo se vogliamo tirare fuori la città dalla situazione che è visto che c'è un'amministrazione comunale che quando meno ci ascolta non ci chiude la porta in faccia a questa amministrazione comunale abbiamo il dovere di arrivare con delle proposte bene io ringrazio il coordinatore cittadino e vicepresidente provinciale di Conf Commercio Giulio De Angelis e quanti di voi ci hanno seguito da casa vi do appuntamento al prossimo venerdì buon proseguimento grazie a voi grazie a tutti